e lì ci siamo allora se stai guardando sto video sei una delle 12 persone a cui questo video è arrivato perché le tue pubblicità devono essere migliorate i tuoi video devono essere migliorati perché questo perché migliorando adesso vediamo subito le statistiche questo video durerà spero massimo 3 minuti noi possiamo andare a moltiplicare quelli che sono i ritorni e quella che è la qualità delle persone senza cambiare nella spesa pubblicitaria e nel tuo sforzo che già ti impegni tanto perché se io ti condivido lo schermo e ti faccio vedere eccolo qui ad esempio questo qui è la schermata di Alice che con 1000 euro in pubblicità ha fatto 3300 euro vuol dire che cazzo se ogni euro che metto ne faccio 3,3 è un bene però questa cosa l'ha fatta con un tasso di click dello 0,95% arrotondiamo all'1% che vuol dire che ha raggiunto 278.000 è stata vista 278.000 volte e hanno cliccato più o meno diciamo 2700 poco meno dell'1% ma se non riuscissimo a fare una cosa a portare quest'1% al 2% stesso numero di persone doppio dei click se ogni diciamo 2700 click hanno causato generato 75 messaggi e il doppio dei click generano per regola il doppio dei messaggi il doppio dei messaggi il doppio delle persone in studio il doppio delle persone in studio almeno perché poi in realtà diventi sempre più bravo eccetera il doppio dei soldi eh ma questo non vuol dire il doppio di guadagno perché qui ne ha guadagnato i 2003 tutti quelli in più e tutto guadagno in più quindi se tu con 1000 generi 3000 è un conto ma se con 1000 generi 6000 non hai 2000 di guadagno hai 5000 di guadagno quindi hai per 2,5 ok? e lì c'è comunque messa abbastanza bene qualcuno di voi qui ha un per 1,5 per 2 vuol dire metto 1000 faccio 2000 ma se 2000 ritendiamo 4000 non è 1000 di profitto è 3000 di profitto cioè raddoppiando i risultati abbiamo triplicato il profitto la qualità delle persone aumentata soprattutto con dei video fatti molto meglio quello che riusciamo a fare è rimanere bloccati nella testa delle persone ti faccio un esempio chi pulisce più di Chantecler oppure non lo so rosita il mulino bianco cioè tutte quelle cose che ti rimangono in testa bene tu nella tua zona vuoi essere il terapista lo studio che rimane in testa delle persone perché poi questa è una cosa che ti dà vantaggi per anni se i video li facciamo bene una volta è l'unico modo per migliorare queste statistiche è fare meglio i video perché se le persone cliccano o no dipende solo da quanto fighi sui video rispetto alle persone giuste davanti alle persone giuste beh quello che succede è che tu sti video ci mangi e ci margini sei mesi otto mesi un anno e non solo una volta che hai imparato a farli bene perché te li facciamo noi con il nostro team con il nostro staff con Attilio che una volta all'anno che viene in Italia pensa a te e viene e ci facciamo una giornata intera tutta insieme a fare consulenza a capire quali sui problemi personali e professionali come migliorare le strategie per tutto il 2024 tutto il team con materiale poi strumentazione tecnica video editor video maker che stanno lì a fare cosa a riprendere te con me che ti correggo su quindi ogni video fidati che sarà fatto molto meglio perché Attilio che te lo corregge e avrai tutte le strategie anche solo banalmente avere qualcuno sull'ettino e poter fare le ads con qualcuno sull'ettino che non è un paziente non avere l'ansia avere i colleghi che lo fanno con te e tante altre cose che poi vedete perché questa qui non è un video in cui vi devo dire tutto quello che ricevete ma in cui vi dico guarda se migliori questo cioè se tu riesci a migliorare questo per il resto dell'anno guadagni molto di più ma al di là di guadagni sei più tranquillo è la macchina che funziona meglio perché per ogni euro ne fai due sta macchina c'è la ruota bucata ma se sta macchina delle pubblicità per ogni euro ne fa sei ne fa sette ne fai otto cioè tu hai tutto il margine che vuoi per mangiarti la competizione in zona per essere quello che ha tutti i pazienti che vuole perché se per ogni euro ne fai otto puoi mettere tutto il budget che vuoi puoi scalare il controllo questi sono solo alcuni dei vantaggi quindi ti è arrivato anche un video personalizzato sulle tue statistiche che sto facendo uno per uno voi dodici non ci sono dodici posti perché io torno in Italia devo vedere la famiglia per Natale e poi riparto penso prima di Capodanno quindi sti pochi giorni che sto in Italia li dedico a voi purtroppo non lo posso fare con venti persone in realtà neanche con dodici perché fare i video è molto complesso richiede lo staff a dei costi ma belli grossi tra l'altro ma soprattutto richiede tempo e focus su di te quindi mi dobbiamo apprezzate tutto il tempo come lo so perché abbiamo già fatto inizio anno e fidati che è un lavoro della Madonna perché è un lavoro della Madonna è un lavoro di sforzo di idee di tutto però una volta fatto per mesi e mesi e mesi stai a posto quindi fare una volta fatti sto regalo sia per il Black Friday sia per Natale in cui è inclusa pure tutta la strategia per il 2024 e fare una cosa abbastanza difficile tra virgolette anche se stare con me non penso sia difficile adesso e vedi benefici per tutto il 2024 ma in realtà pure 25-26 visto che sta roba rimarrà nella testa delle persone e tu in zona anche senza le pubblicità crescerai sempre di più grazie a tutti grazie a tutti